E' bella a tutti ragazzi, siete qui con Cicala101 ragazzi, oggi siamo su GTA V e PlayStation 5 ragazzi per un nuovo super glitch Ragazzi questo glitch è già uscito da un po' di mesi e non è ancora stato bannato nemmeno su PS5 ragazzi Questo glitch è il glitch della Godmode ragazzi con lo Speedo Custom e raga andiamo subito a farlo, prendiamo questa bellissima macchina Ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella, mettere like a questo video e andarvi a seguire tutti quanti su TikTok ragazzi Perché lì porteremo molte live, molte molte live Raga cosa fate? Allora i requisiti sono avere Nightclub e Speedo Custom ragazzi, semplicissimi Quindi questo glitch si può fare in qualsiasi tipo di sessione e nulla raga Allora prendete un qualsiasi veicolo e vi dirigete al vostro Nightclub In questo caso io ragazzi ce l'ho qua sopra Andiamo al Nightclub raga Ok eccoci qua Allora dove sta? Sta qui dietro In questo caso ragazzi lo faccio in una pubblica di 30 persone per far vedere che funziona anche in pubblica Perché poi se no mi commentate non va qui, non va lì No ragazzi, funziona in tutte le sessioni Allora ragazzi andate dal Nightclub Piano B1 Interrato 1 Eccoci qui ragazzi, salite sullo Speedo Custom Che ha questo qui piccolino Ragazzi una volta che ci siete sopra fate freccia destra E fate una modifica a caso Io vi consiglio di modificare i freni Mettere freni standard e poi di nuovo da gara Poi cerchio ragazzi, cerchio di nuovo Restate su esci dall'officina Per 3 secondi Poi andate su esci dal garage Una volta che siete su esci dal garage ragazzi Incominciate a spammare Il tasto PS Tenete premuto il tasto PS e spammate X E rientrate nel gioco In poche parole cosa dovrete fare ragazzi? Spammare Tante volte tenendo premuto il tasto PS per uscire dal gioco E spammare sempre X Vediamo se ha funzionato Una granata Vediamo Come vedete ragazzi il nostro speedo custom è indistruttibile Quindi ragazzi vi rispiego il passaggio Dovrete semplicemente Spammare X E tenere premuto PS Quindi quando vi andrà sulla schermata ragazzi della home Quando tenete premuto PS Spammate X su GTA Di nuovo home X su GTA home Finchè non vi uscirà E quando vi riesce ragazzi Sarete indistruttibili Ora Siamo con il nostro speedo custom Moddato ragazzi Indistruttibile Quindi veramente wow Fantastico Vi consiglio di farlo Solo per divertimento ragazzi Non per rompere il cazzo alle persone Perché Se vi beccate troppe segnalazioni Come me sapete Rockstar vi potrebbe rompere i coglioni Giustamente E raga che dire Vi saluto E bella